Un video inedito realizzato dagli studenti che ripercorre i luoghi della venafro ferita dalla seconda guerra mondiale e il libro sulla strage di Cagliazzo curato dal procuratore capo di Sernia Paolo Albano hanno offerto agli studenti del Giordano tanti spunti per riflettere su un'amara verità. Gli orrori del passato non hanno insegnato nulla al genere umano, ancora oggi i conflitti e le stragi seminano terrore e morte. La lettura di questo testo deve essere un momento indicativo e un momento di riflessione per i nostri alunni. Si parla di un eccidio perpetrato il 13 ottobre del 43 ma la lettura di questo testo deve invitare i nostri alunni a riflettere su tutte le stragi delle guerre e di come il male sia una banalità che si perpetua nel tempo e che in ogni momento storico si ripresenta. Quest'anno il Giordano così come nel passato si è aperto però quest'anno maggiormente al territorio ed ha costruito con il territorio una serie di reti e quindi è bene che tutte le istituzioni collaborino affinché gli alunni abbiano momenti di riflessione. Il procuratore Albano oltre a soffermarsi sui retroscena della sua indagine dedicata alle stragi di civili a Cagliazzo una delle prime in assoluto tra quelle compiute dai nazisti in Italia ha focalizzato l'attenzione anche sul bombardamento di Venafro. È importante, ha detto il magistrato, che i giovani riflettano su questi episodi. Loro sono il futuro e possono cambiare meglio una società ancora oggi segnata dalla strategia del terrore come dimostrano i recenti attentati a Bruxelles. È importante che ci siano tanti giovani, tanti ragazzi perché ricordare quello che è accaduto in quel periodo è di grandissima attualità con gli avvenimenti odierni. Purtroppo le stragi, la guerra, la violenza continua in interrotta e imperversare dappertutto ed è bene che si conosca qual è stato il nostro passato. I giovani devono conoscere il nostro passato perché soltanto la memoria ci può aiutare a costruire un futuro migliore e ad evitare le guerre, evitare la violenza, evitare quelle stragi che ancora oggi vediamo insanguinare Parigi oppure anche Bruxelles.